Siamo avversi da tante disegni, nonostante da sensazioni quasi invincibili. Per questa visione, che dispinse a praticare subito il consiglio di Gesù udito nell'Evangelo della Messa, ricordaci innanzitutto, per la prima volta e santa gioia, che siamo per i miei su questo mondo. Che ciascuno deve contentarsi dello stato, del posto assegnato lì da Dio, e rispondere alla propria missione per meritare il nostro comesso. Gloria al Padre, allo Spirito e allo Spirito Santo. O Sant'Antonio, modello e tutta, accendi in noi la strada dell'eterna carità. O Sant'Antonio, ogni cosa oggi il demonio con la sua astuzia perturba e sconvolge, ma tu, che sempre trionfasti su di lui, riaccendi nel cuore dell'uomo i palpiti d'amore verso Dio ed il suo prossimo. Scaccia dal nostro animo e fa sorgere quella fede, quel coraggio che incontestica la parola dei martiri di Alessandro. Allo Spirito e allo Spirito e allo Spirito e allo Spirito, e allo Spirito e allo Spirito e allo Spirito e allo Spirito e allo Spirito, e allo Spirito e allo Spirito e allo Spirito e allo Spirito e allo Spirito, e nel suonаются places fondando l'uomo i palpiti d'amore verso Dio ed el nosso parcela. Olha qui, Jimarino scoge il teore, quel coraggio di aristocratia. debito il tuo corso dello forte, oggi c'è il tempomorso nato del cui i palpiti d'amore verso Dio Grazie.